Buona! Fresca! Frizzante è il punto giusto! Sì, l'acqua come la volete voi e quando volete voi! Provatela gratuitamente a casa vostra per 30 giorni con uno dei nostri sistemi. Chiamate per informazioni e per una visita senza impegno di un nostro consulente. Con Acqua Go Go avrete acqua a temperatura naturale, fredda o frizzante, direttamente dal rubinetto di casa vostra, grazie al sistema sotto zoccolo. Oppure grazie all'elegante erogatore da mettere sul top in cucina. Scegliete il sistema che preferite e provatelo gratuitamente per 30 giorni a casa vostra. La prova non vi costa nulla! Appero! In più per voi a scelta uno di questi splendidi omaggi. Un tablet! Un tv di ultima generazione per i vostri spettacoli preferiti. Un'asciugatrice, indispensabile in ogni casa per non stendere all'aria aperta satura di polveri e smog. Un materasso in memory di grande qualità per dormire sonni tranquilli. E non dimenticate di approfittare dell'eco bonus. Recuperate parte della spesa. Chiamate per informazioni. Acqua Go Go! Appero! Quante volte avete avuto problemi di spazio dove tenere le bottiglie di plastica in casa? Perché continuare a faticare per portare a casa centinaia di cesselli ogni anno? Perché continuare ad accumulare le bottiglie di plastica da smaltire? Con acqua Go Go avrete tutta l'acqua che vorrete sempre, senza più problemi. Acqua pronta da bere, a temperatura naturale, oppure fredda, oppure frizzante se preferite. Appero! Con acqua Go Go l'acqua del vostro rubinetto sarà sempre pronta da bere per cucinare. Acqua che scoprirete darà un gusto migliore ai vostri cibi e alle vostre bevande. Provatela gratuitamente a casa vostra per 30 giorni con uno dei nostri sistemi. Con acqua Go Go avrete acqua a temperatura naturale, fredda o frizzante, direttamente da rubinetto di casa vostra, grazie al sistema sotto zoccolo, oppure grazie all'elegante erogatore da mettere sul top in cucina. Chiamate per informazioni! La prova non vi costa nulla e scoprirete in 30 giorni i vantaggi che vi cambieranno la vita. In più per voi è scelta uno di questi splendidi omaggi. Un tablet, un tv di ultima generazione per i vostri spettacoli preferiti. Un'asciugatrice, indispensabile in ogni casa per non stendere all'aria aperta, satura di polveri e smog. Un materasso in memory di grande qualità per dormire sonni tranquilli. E non dimenticate di approfittare dell'eco bonus. Recuperate parte della spesa. Chiamate per informazioni! Acqua Go Go! Appero!